Credo che questo tour sia stato il miglior modo per visitare Delhi, la nostra guida è spesso da speciale, meravigliosa, molto gentile e abbiamo visto tutto ciò che probabilmente nei normali tour non si vede, mentre con questo possiamo dire di aver scoperto cos'è Delhi. Credo che sia il miglior modo per scoperto Delhi per le persone europee e per le altre persone per le altre parti del mondo. Potete vedere il true Delhi, potete sentire il true Delhi, potete vedere tutto il colore, il gusto, tutto il smell dell'India e credo che sia meraviglioso, molto, 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 molto meraviglioso. Credo che dovete scegliere il Mr. Drew per il tour. È molto, molto, molto buon lavoro. Lo consigliamo. Lo consigliamo, sì. Grazie.